oggi ho preferito parlare italiano perché voglio enviare un messaggio ai miei giocatori e voglio che il mio messaggio sia molto chiaro non voglio fare un errore con il mio inglese sono fortemente incazzato perché questa è una partita persa sul piano mentale perché in campo è scesa una squadra a un livello di determinazione nettamente superiore al nostro e questo non lo posso accettare posso accettare la squadra sbagli un approccio tipo tottenham cosa di cui abbiamo parlato molto negli spogliato io pensavo fosse un problema risolto ma mi sto rendendo conto che non è risolto oggi abbiamo perso per mancanza di determinazione e questo non mi piace mi piacerebbe arrivare negli spogliatori arrivare in sala stampa e poter parlare di aspetti tattici che abbiamo perso per aspetti tattici e non per aspetti mentali quindi è una squadra difficilissima da motivare e dobbiamo lavorare su questo sì certo ho la consapevolezza che questa non diventerà mai una squadra da da battaglia perché per caratteristiche mentali per caratteristiche fisiche per caratteristiche tecniche dobbiamo diventare una squadra che ha la capacità di adattarsi ai 10 minuti di sofferenza che può avere durante la partita dobbiamo diventare una squadra che ha capacità di giocare il proprio calcio perché oggi abbiamo smesso di giocare il nostro calcio perché il nostro calcio è fatto di fase difensiva in avanti e oggi abbiamo corso difendendo all'indietro il nostro calcio è fatto di palla mossa uno due tocchi e oggi abbiamo portato la